Samuel Stern numero 51, Il Cavallo Verde Sono un pochino, un pochino di... Deluso, ho un pochino di disappunto per questo numero Ma ne parliamo dopo la sigla Bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica Samuel Stern Oggi siamo a parlare del numero 51 dal titolo Il Cavallo Verde di Gianmarco Fumasoli, Massimiliano Filadoro e Marco Saveniago Con i disegni di Stefano Palma e la copertina sempre della triade Piccioni di Vincenzo Tanzillo Perché ho detto che sono un pochino deluso da questo numero? Ovviamente come sapete Samuel Stern è una testata che mi piace e sta continuando a piacermi tantissimo Cosa che sto notando dai commenti non è una cosa scontata Perché alcuni stanno abbandonando la testata Alcuni dicono ah non è più come i primi numeri Vabbè sti cazzi meno male Cioè nel senso non ci si può fossilizzare se no si guarda la signora in giallo Però ecco appunto a me continua piacere, continua a dare entusiasmo Anzi questa saga dell'Apocalisse mi sta facendo voglia di andare avanti Mi sta facendo voglia di voler vedere dove e come andrà a finire questa Apocalisse Sterniana Perché dico quindi che sono un pochino deluso? Perché come avevo ipotizzato come il cavallo nero ha parlato di uno dei quattro cavalieri Che era appunto Cran, il cavallo bianco parlava di Angus Nel cavallo verde si sapeva si parlava di Penny Per poi appunto arrivare al cavallo rosso dove presumibilmente si parlerà appunto di padre Duncan Se non del rosso medesimo dove il rosso è anche il nostro rosso Però vabbè lì ci sta che ci sia una connessione molto intima tra padre Duncan e Samuel Stern Mi aspettavo invece che questo numero fosse quasi esclusivamente di Penny Così come il numero 50 è stato praticamente esclusivamente di Angus Daryling Sì è vero che nel cavallo nero c'era una storia non totalmente legata a Cran Ma comunque c'è stata una bella crescita nella storia di Cran Qua invece la storia di Penny non la fa da padrona Cioè il mio femminismo si sta facendo sentire Cioè perché Penny non ha una storia di cui è totalmente protagonista Ha una side story, una seconda trama Che però, non lo so, sembrano quasi dei piccoli incisi, delle piccole parentesi All'interno della storia di Samuel Io avrei preferito davvero vedere l'apocalisse di Penny In una misura molto più... in molte più pagine Invece qua davvero è stata stringata a poche pagine Al punto che a un certo punto io non capisco dove sta la metafora E dove sta la lettura letterale di quello... scusate la cacofonia La lettura letterale di quello che mi stanno mostrando Di quello che mi stanno disegnando Poi adesso lo spiego meglio quando spoiler Ecco, mi è dispiaciuta un po' questa cosa Sono stato davvero molto felice di vedere che hanno scelto Penny Quando si tratta appunto di ciò che ha a che fare con la malattia Con la morte E che abbiano ripreso a mani basse il numero più fortunato Più ben riuscito che riguarda Penny Che è l'angelo del focolare Nonché anche uno dei miei numeri preferiti di Samuel Stern Al punto che in questo numero pare essere Penny stessa A diventare l'angelo del focolare L'angelo del suo focolare Perché si è sempre occupata dei problemi di suo fratello Che qua appunto riemerge dalla nebbia sterniana Per raccontare di nuovo la sua storia E si è sempre occupata anche, non lo so, dei problemi di Samuel stesso In questo momento si sta occupando di Lily per esempio Vediamo una Penny che si fa carico dei problemi altrui come caregiver E sta andando in burnout Fondamentalmente Penny in questo numero È esattamente come la protagonista del numero 25 L'angelo del focolare È come se non avesse imparato la lezione Che lei stessa ha dato a quella ragazza E ci può anche stare Perché poi quando si è coinvolti in una storia familiare Non si riesce a far tesoro dei consigli Che noi stessi diamo agli altri Quindi questa cosa ci può stare assolutamente Mi piace appunto anche la metafora della muffa Che sta distruggendo appunto il focolare Che sta distruggendo la casa Inteso come home, non come house Di Penny in questo caso E non so se poi simboleggerà anche il fatto che Le faranno cambiare casa O comunque Lily dice Ci sono alcune stanze della casa Che hanno questo problema Dice questa cosa Ma poi non si va a parare da nessuna parte È come se questa muffa restasse all'interno di Penny Cioè si vede il cavallo Letteralmente qua vediamo un cavallo Un cavallo verde Che se ne va via alla fine Quindi probabilmente si trascina via anche la muffa Non lo sappiamo Però appunto viene un attimino Combattuta questa cosa Con la rappresentazione maligna del fratello Però appunto c'è un'altra trama E voglio parlare anche di quest'altra trama Prima di concludere con la trama di Penny Che era quella a cui tenevo di più Nell'altra trama Samuel appunto va a trovare sua madre Perché durante tutti i racconti degli altri cavalieri Samuel è in viaggio quindi ci sta Però avrei preferito una situazione ribaltata Dove Samuel aveva la seconda storia Samuel è in viaggio quindi ha finalmente una chiacchierata con sua madre A quanto pare sua madre tiene ancora in ostaggio Raiden Di cui non si era saputo più nulla Raiden è stato mutilato al volto Secondo la madre di Samuel Perché questa mutilazione Lo avrebbe aiutato a liberarsi dalla possessione dell'informe Quindi a tutti gli effetti Raiden pare essere libero Dalla possessione dell'informe Addirittura viene messo in questo numero Lord Dalistar Che viene appunto finalmente chiarito Come mai ha questa lunga vita Di 500 anni Quindi viene confermato che Lord Dalistar Quello che doveva essere morto nel corpo e il sangue Invece appunto è tuttora vivo Ed deve la sua lunga vita A questa sua devozione verso l'informe E viene appunto un attimino Chiareta la dinamica tra Raiden e Lord Dalistar Perché appunto non fanno parte della stessa congrega Perché sono due personaggi differenti E c'è anche una certa rivalità tra i due E che viene appunto risolta Nel peggiore dei modi come può accadere solo tra due malvagi Alla fine di questo numero Quindi sono felice che venga chiusa finalmente la parentesi Anche della setta di Lord Dalistar Anche se devo dire non ha fatto molto Sì è stata nell'ombra ma qua è stata risolta in poche righe Non so se avevano altri piani Però hanno cambiato idea E qua hanno voluto chiudere la cosa Però appunto ha un po' quel sapore lì Ecco devo dire piuttosto se posso permettermi Preferirei in futuro Che una trama che viene lasciata così in sospeso Non venga chiusa così tanti numeri dopo Perché se no si rischia davvero il fenomeno di Landog Dove ci sono i sequel di un numero dopo vent'anni Ora non è il caso della Bugs Anche perché vent'anni non ce li ha Samuel Stern Però mi rendo conto che per chi A differenza mia non ha letto tutti i numeri Ci potrebbe essere un pochino di difficoltà Assolutamente Preferisco piuttosto una continuity serrata Una run all'americana Come sta succedendo in questo ciclo dell'Apocalisse Che però ha anche l'onere di dover chiudere le vecchie trame Quindi posso anche capire questa cosa Quindi pare che adesso Raiden Sia ancora vivo E si sia schierato di nuovo Dalla parte di Samuel Contro l'informe Un'aggiunta carina Io non ne vedevo la voglia Di rivedere Raiden Però vediamo Vediamo dove andrà a finire Probabilmente servirà Un agnello sacrificale Che non può essere Samuel E sicuramente sarà Raiden Mi viene da pensare Però non lo so È tutto da vedere Tornando appunto alla trama di Penny Che speravo fosse la principale O vi posso dire Mi è piaciuta anche la trama di Samuel In realtà speravo che questi Fossero due numeri separati Non avrei mai voluto vedere queste storie Risicate in 45 pagine Perché fondamentalmente è questo che è successo Ci sono due storie da 45 pagine Non sono collegate tra loro più di tanto Se non accennando Se non nella storia di Samuel Si accenna al desiderio dell'informe Di avere Lily Però si sapeva già Cioè non è legato Al cavallo verde Al cavaliere verde Quindi Sono un po' indipendenti Queste due storie E appunto nella storia di Penny Nel finale Vediamo Lily e il fratello di Penny Che non si sopportano Cioè non riescono a stare Nella stessa stanza C'è un certo disagio Perché appunto Lily vede le ombre E riconosce nel fratello Appunto Un'ombra molto potente Al punto che Non è più suo fratello Ma è un'ombra Però io onestamente Non ho capito una cosa Perdonatemi Me lo spiegherete voi Non è suo fratello Nel senso che la persona L'entità che è entrata in casa di Penny Non era suo fratello Ma era un demone Che aveva assunto la forma Al volto di suo fratello Per fare del male a Lily Per volersi prendere Lily E aveva parlato in questo modo A Penny Che sconfiggendolo fisicamente Ha liberato anche la sua frustrazione Repressa Verso Quello che era Non tanto il fratello vero Ma quello che era Il suo senso di colpa Verso quello che era successo al fratello Frasi che il suo vero fratello Non le ha mai detto Ma che Penny Sentiva nel suo cuore O se effettivamente Suo fratello è stato A seguito dell'incidente Posseduto da un'ombra Ed era diventato A tutti gli effetti Una persona posseduta Insomma Mi sto chiedendo Penny ha davvero ucciso Fisicamente il suo fratello O è stata una metafora E ha affrontato il suo fratello Metaforicamente Oppure ha ucciso fisicamente Un demone Che aveva assunto La forma di suo fratello Ho proprio questo Un piccolo dubbio Che non ho compreso Da questa lettura So che è una stupidata Per il messaggio Che ci vogliono dare Che comunque arriva Però per la trama orizzontale Vorrei sapere Se uno dei personaggi principali Ha commesso Tra virgolette Un omicidio Che si sa Se ormai L'anima del fratello di Penny Era perduta Ok Però è comunque Suo fratello Quindi vorrei capire Se questa cosa Porterà Porterà Penny Ad avere un altro peso Sulla coscienza O semplicemente Ha ucciso un demone Che aveva Queste sembianze Il mio piccolo dubbio Che chiedo a voi Cosa ne pensate Chiedo anche agli autori Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Di questo numero Io sono appunto Mi è piaciuto Mi è piaciuta la lettura Però appunto Avrei preferito Due numeri diversi E godermi di più Le storie Perché sono state Molto interessanti Ma ci ho visto Poco spazio dedicato Tutto lì Io come sempre Vi ringrazio Per avervi seguito Fino alla fine del video Come sempre Vi invito Al prossimo video Che sarà su Kalia E con l'inchino E con l'imbuto Vi saluto E vi dico Arrivederci Al prossimo video E con l'imbuto E con l'imbuto